Salve a tutti, in questa video recensione vi mostreremo il regola barba Philips BT520616. Questo è un apparecchio di fascia media che noi consideriamo tra i migliori per il rapporto qualità-prezzo, visto che è dotato di interessanti funzioni come quella di una particolare omogeneità del taglio e manutenzione, che presto vedremo insieme. Come vedete si tratta del classico regola barba a forma cilindrica, con un peso medio, leggero, se vogliamo. Il peso è molto abbilanciato, è un prodotto che si manovra molto bene. Vedete che ci sono comunque sia delle scanalature e anche delle parti sagomate che aiutano sia a manovrare meglio il prodotto che a tenerlo con maggior pressione durante il taglio. L'ampiezza di taglio di questo regola barba è quella più classica, intorno ai 30 mm, è una misura che viene scelta per definire bene i bordi di una barba sagomata. Questo regola barba ha un range di taglio che parte dai 0,5 mm ai 7 mm. Ovviamente i 0,5 mm si ottengono senza pettine. Inserendo il pettine invece possiamo arrivare fino a 7 mm, come detto. Le varie posizioni di taglio si regolano attraverso questa ghiera girevole. Sono 17 posizioni e la posizione più alta è appunto quella da 7 mm. Considerando la fascia di prezzo, un altro punto forte di questo prodotto è sicuramente l'ottimo rapporto autonomia ricarica. Infatti con una sola ora di attesa abbiamo ben 50 minuti di lavoro. Non solo, tramite il trasformatore potrete anche utilizzare il prodotto con cavo. Un altro tema molto discusso è quello della manutenzione. Infatti i nostri utenti spesso ci chiedono le caratteristiche dei vari regola barba. Questo ha una manutenzione molto semplice. Infatti le lame sono autolubrificanti e si può passare direttamente sotto acqua corrente. Quindi velocizzando il lavoro di pulizia post regolazione. Per quanto riguarda gli accessori di questo apparecchio possiamo considerarlo un po' un punto debole se vogliamo. Per lo meno è un primo momento. Vedete che in dotazione oltre al trasformatore per la ricarica troviamo semplicemente questa spazzolina per la pulizia delle lame. Però bisogna considerare che questo pettine di tipo chiuso garantisce al regola barba un taglio particolarmente omogeneo che è un po' un punto debole che viene spesso denunciato dai nostri utenti per quanto riguarda i prodotti che invece hanno in dotazione un pettine aperto. Vediamo allora adesso come funziona il prodotto. Una volta scelta la misura, diciamo 5 mm, basta pigiare il pulsante di accensione e il prodotto parte. Non è sicuramente uno dei regola barba più silenziosi in commercio ma è un piccolo prezzo da pagare per l'ottima potenza di questo apparecchio. Consigliamo questo regola barba a chi non porta un taglio troppo lungo perché ripetiamo che la lunghezza massima è di 7 mm ma sicuramente è ideale per chi vuole un taglio molto omogeneo. Grazie di averci seguito, vi aspettiamo alla nostra prossima video recensione. Grazie. Grazie. Grazie.